Grazie a tutti! Eh, effettivamente ci serviresti, diciamo, ecco. Ci vediamo sul canale 8. Da domenica 2 marzo alle ore 21.05. Non ho capito. Ciao Paolo. Aspetta, te lo faccio rivedere. Non ho capito. Aspetta, te lo faccio rivedere, diciamo, ecco. Ci vediamo sul canale 8. Da domenica 2 marzo. Vabbè, vabbè. Hai capito? Vabbè. Grazie a tutti.